L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Mi ha tolto la pole Verstappen per 5 millesimi. Ma che rischio. Più trazione, più attenzione. Uso le batterie. Mannaggia, le Mercedes sono più veloci col bagnato. Mannaggia, le Mercedes sono più veloci. Mannaggia, le Mercedes sono più veloci col bagnato. Verstappen 1.28 e io 1.32. Sì, ma non riesco. Oggi proprio non va. Previsione del tempo. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Forse di più. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. C'è un po' più veloci suonardo. C'è il tempo. C'è proprio un po' a più veloci. C'è un po' a più veloci. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 27,3 secondi. a tutti. Grazie a tutti. non credo. a tutti. a tutti. abbiamo a tutti. a tutti. a tutti. No, no. a tutti. 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 a tutti.